Sindaco di Gessopalena Mario Zulli, torna anche quest'anno a Gessopalena Gessi Divini, il 10 e l'11 settembre. Quali sono le novità di questa iniziativa che è nata per valorizzare questo territorio, farlo scoprire, per far conoscere i vitigni autoctoni antichi che sono stati scoperti grazie a un percorso, un progetto importante che avete avviato diversi anni fa? Certo, torna il 10 e l'11 Gessi Divini, torna nella sua formula classica ma con diverse novità significative. La prima è appunto l'assaggio, la degustazione del nostro vitigno autoctono, il nero antico, non solo di quello ma anche della vedovella nera che è l'altro vino proprio di queste parti, anche se è un clone del Sangiovese. Torna nella location del nostro borgo medievale, una location unica, interamente scavata nel Gesso e torna con protagoniste le cantine. Anche quest'anno avremo nuove cantine che effettueranno le degustazioni all'interno dei locali del Museo del Gesso. A questo si accompagna il ristorante Gourmet che sarà curato da un'azienda locale di Lama dei Peligni. Gessi Divini è un progetto che nasce, come dicevi tu Miriana, dalla riscoperta di questi vitigni antichi ma vuole essere anche motore di sviluppo non solo per Gesso Palena ma per tutto il territorio. Quest'anno c'è un coinvolgimento di aziende locali che vengono anche dai paesi limitrofi, dicevo, di Lama, anche Torricella Peligna, Rocca Scalegna, Montenero Domo, Casoli. Quindi vuole essere una bella scommessa per Gesso Palena ma per l'intero comprensorio. Sindaco ci sono i convegni, importanti convegni nella due giorni. Due convegni che verranno protagonisti, gli altri attori coinvolti nel progetto, quindi a partire dall'Università di Teramo e dall'Università di Perugia, la Regione Abruzzo e gli altri attori sostanzialmente che ci hanno aiutato in questo percorso. Il primo convegno è in realtà una tavola rotonda che avrà al centro il tema dell'identità culturale e delle tradizioni quale veicolo per lo sviluppo del territorio perché al di là dell'elemento materiale del vino vogliamo in qualche modo valorizzare anche tutti quegli aspetti immateriali legati alla produzione dello stesso e non solo. Quest'anno, poi il prossimo anno, nel 2023, ricorrerà un evento importante per Gesso Palena che è il centenario della morte di Gennaro Finamore che ha avuto i Natali proprio nel nostro paese e che ha scritto anche saggi riguardo le condizioni economiche agricole dell'Abruzzo. Lo faremo insieme al professor Aurelio Manzi che è motore insieme al Comune di questo progetto. Lo faremo con la preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Taramo che da poco ha attivato un corso sul turismo sostenibile. Lo faremo insieme a Domenico Mastro Giovanni che è un referente per la CIA insieme al sindaco di Lama dei Peligni nonché vicepresidente del Parco Nazionale della Maiella con il quale l'amministrazione comunale di Gesso Palena ha attivato un percorso di valorizzazione turistica e di condivisione. Lo faremo insieme a Vincenzo D'Ercole che è sindaco di Castiglione Mester Raimondo nonché presidente di Anci Giovanni Abruzzo. Sarà poi presente un imprenditore locale, Danilo Di Florio che è un'azienda importante del territorio, sta sviluppando un progetto di ecosostenibilità ambientale. Il secondo giorno invece sarà un convegno tecnico guidato dal vice sindaco Giuseppe Tiberini che è assessore all'agricoltura del nostro Comune che vedrà la partecipazione delle università nella figura del professor Dino Mastrocola rettore dell'Università di Taramo, Claudio D'Addario sempre dell'Università di Taramo Lucia Giordano che è ricercatrice dell'Università di Perugia. Insieme a questi ci saranno rappresentanti del Gal Maiala Verde una figura del presidente Tiziano Teti non solo ma sarà presente anche il vice presidente della regione Emanuele Imprudente che ci ha dato una mano e che sta credendo anche a questo progetto. E poi si darà il via alla serata meravigliosa si potrà percorrere questo borgo che è veramente dove si respira davvero la storia e si potranno degustare degli ottimi vini e anche mangiare insomma delle pietanze tipicamente locali. Sì, lo dicevo prima nuove sono le cantine quest'anno interessate al di là di questo c'è la degustazione che faremo con sommelier esperti dei nostri vini autactoni questa è la novità rilevante di quest'anno Ci sarà il tartufo tra l'altro? Ci sarà il tartufo prodotto da un'azienda locale di Lama dei Peligni ma ci sarà anche il sedano nero di Torricella insieme a formaggi e salumi tipici del territorio oltre anche ovviamente a prodotti ortofrutticoli del territorio con un aperitivo specifico che faremo qui nella sede nei pressi della sede dell'ex WWF come la chiamiamo noi qui a Gesso Palena. Sindaco, questa iniziativa si tratta della quarta edizione di Gessi Divini nasce diversi anni fa proprio per questo progetto che avete avviato un percorso appunto per far riconoscere questi vitigni e c'è stato un progetto importante di ricerca? Certo, nasce quattro anni fa con l'avvio di questa amministrazione in realtà tre anni fa, questa è la quarta edizione 2019-20-21-22 è un progetto che affonda le radici nella storia nel senso che va avanti da parecchio tempo era coinvolta tramite diversi funzionari la regione Abruzzo che abbiamo deciso di accelerare questo a cavallo già in realtà dal 2017-2018 l'abbiamo ripreso oggi finalmente abbiamo presentato il dossier per il riconoscimento e stiamo aspettando il risponso a giorni per l'iscrizione nel registro nazionale delle varietà di vite questo del Nero Antico ma non ci siamo fermati solo al riconoscimento stiamo attuando un ulteriore progetto ricordo che comunque noi siamo oggetto di studio di due dottorati di ricerca dell'Università di Teramo uno proprio specifico che è servito anche ad acquisire dati per il riconoscimento il secondo invece rientra nel progetto dottorati comunali del Ministero del Sud al quale il comune di Gesso Palena ha partecipato con partner l'Università di Teramo chiaramente ma anche i comuni di Lama dei Peligni e di Torricella Peligni stiamo proprio riscoprendo anche i loro prodotti tipici oltre questo da poco siamo protagonisti di un progetto appunto del Galla Valere sul PSR che ci serve proprio per studiare non le viti ma stavolta i vini e soprattutto ci consentirà di aiutare le imprese sia nel rimpianto sia nella coltivazione proprio attraverso corsi formativi proprio per i viticoltori e per coloro che vorranno intraprendere il percorso del Nero Antico